Il tema della legalità è purtroppo il più presente nella società italiana. Prima le arroganze di Berlusconi che si voleva fare legge a De Persona, adesso le farneticazioni di Berlusconi, il quale vaneggia di colpi di Stato soltanto perché lui è sottoposto e soggetto ad una sentenza regolarmente emessa dai tribunali dello Stato. Ma non sono soltanto queste le questioni che riguardano la legalità nella vita politica italiana, c'è la questione immensa delle conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale sulla legittimità del Parlamento, è legittimo o no? Sono legittimi gli atti finora compiuti, è legittima l'elezione di Napolitano e l'elezione della Corte Costituzionale di tutti gli atti compiuti? Sì, saranno legittimi tutti gli atti che il Parlamento compirà da adesso in poi? No, ho fortissimi dubbi, abbiamo fortissimi dubbi perché oramai è conclamato per la sentenza della Corte Costituzionale che si tratta di un organo, parliamo della Camera, del Senato e quindi del Parlamento, illegittimamente costituito e la regola giuridica è che gli atti compiuti di un organo illegittimamente costituito sono esistenti, illegittimi, ma il laboratorio della legalità di Italia dei Valori è presente perché purtroppo la società italiana impone tutto questo, il nostro DNA non è un fatto occasionale, il nostro DNA della legalità è un fatto necessitato dal fatto che la società italiana è ancora tutta protesa nel mancato rispetto delle regole, facciamo alcuni esempi, la corruzione è ancora fortissima e da 60 miliardi di minori entrate all'anno, l'evasione fiscale sono 130 miliardi di minori entrate all'anno, la gestione dei beni confiscati è ancora molto artigianale, nel senso che sembra che si tratti di 80 miliardi, molti dei quali potrebbero essere da subito gestiti per finalità sociali, cioè il ricavato della vendita e noi su questo stiamo predisponendo, insieme al segretario Messina una proposta di legge di iniziativa popolare, abbiamo raccolto le firme sotto una proposta di legge contro il gioco d'azzardo, il gioco d'azzardo non è soltanto una questione etica, è innanzitutto una questione etica di uno Stato che non può legittimare il gioco d'azzardo e quindi la rovinare le persone, ma è una questione economica, il gioco d'azzardo drena dalle tasche dei cittadini ogni anno oramai circa 100 miliardi, dove vanno questi fondi? Sono fondi tolti ai consumi, quindi una delle cause di contrazione dei consumi, essendo questa la terza industria italiana, una delle cause della riduzione dei consumi è anche rappresentata dal fatto che la povera gente tenta tutto disperatamente sulla fortuna e non ha più i soldi per comprarsi anche il necessario. E così pure noi abbiamo fatto una proposta di legge di iniziativa popolare per ripristinare il divieto delle dimissioni in bianco da parte soprattutto delle donne lavoratrici. Ecco uno spaccato, alcuni esempi della necessità dell'Italia dei Valori di esistere e della necessità di esistere all'interno dell'Italia dei Valori un laboratorio della legalità.